Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. In questo video voglio parlarvi della metafora della carrozza di Gurdjieff. Gurdjieff condivideva questa metafora nelle sue scuole esoteriche e tutt'oggi è una metafora condivisa in diverse scuole esoteriche proprio per andare a rappresentare i vari aspetti di quello che noi crediamo di essere. In questa metafora viene rappresentata appunto una carrozza con una persona all'interno, con un cocchiere e due cavalli che la guidano. Ecco, Gurdjieff in questa metafora vuole andare a rappresentare tutto quello che è la nostra mente, le nostre emozioni, la nostra parte più profonda e il nostro corpo fisico. La carrozza rappresenta il nostro corpo, il cocchiere rappresenta la nostra mente, i cavalli rappresentano le nostre emozioni e chi sta all'interno è la nostra parte più profonda, la nostra anima. Teoricamente se noi siamo in uno stato di veglia, se abbiamo sperimentato uno stato di risveglio, noi siamo svegli all'interno della carrozza, ci rendiamo conto di essere all'interno, ci rendiamo conto che c'è un cocchiere lì davanti che sta guidando, ci rendiamo conto che ci sono dei cavalli che si stanno muovendo e siamo noi a scegliere la direzione. Molto spesso però che cosa avviene? Anzi direi che sempre prima della fase del risveglio avviene che chi è all'interno della carrozza sta dormendo e quindi la persona che è portata dentro alla carrozza si sta facendo un bel riposino che è quello che noi sperimentiamo finché siamo in uno stato appunto di inconsapevolezza, dormiente e di conseguenza che cosa succede? Succede che il nostro corpo, la carrozza, si muove guidata dal cocchiere che è la nostra mente che gestisce frustando i cavalli che sono le emozioni. Che cosa succede nel momento in cui andiamo a svegliarci? Iniziamo intanto a renderci conto che fino a quel momento siamo stati guidati da qualcosa e noi non ce ne siamo neanche resi conto perché dormivamo. Poi iniziamo a parlare con il cocchiere e quindi a parlare con la nostra mente e a dirgli quello che realmente vogliamo che è quello che avviene ad esempio quando facciamo dei processi di meditazione o dei rituali, quando andiamo a contatto con la nostra parte più profonda e riusciamo a bypassare la mente e ad intuire quello che davvero a livello profondo vogliamo e sentiamo quello che è davvero la nostra missione, quello che è davvero in linea con noi. E allora che cosa fa? L'omino all'interno della carrozza va a parlare con la sua mente e qui fa riflettere. Quindi non vede il cocchiere come un nemico, non sbatte il cocchiere giù dalla carrozza ma semplicemente gli parla e gli dice quello che vuole. Quindi a quel punto il cocchiere è al servizio dell'omino all'interno della carrozza. Cosa vuol dire? Che finché noi dormiamo la mente ci guida e decide lei dove portarci. Nel momento in cui noi ci svegliamo e andiamo in comunicazione in maniera appunto cordiale con la nostra mente senza rifiutarla, senza mandarla via, senza non accettarla, a quel punto parliamo con la nostra mente, spieghiamo alla nostra mente quello che da un punto di vista più elevato davvero vogliamo e allora la mente inizia ad essere al servizio per noi. Quindi non siamo più noi governati e comandati dalla mente ma è la mente che a quel punto diventa un nostro servitore. Per quanto riguarda le emozioni, le emozioni sono sempre comandate dalla mente, sono sempre gestite dalla mente perché vengono dalla mente. Molto spesso c'è confusione sotto questo aspetto e le persone credono che la mente sia una cosa e le emozioni appartenga al cuore. In realtà non c'entrano assolutamente niente con il cuore. Il cuore è il chakra dell'amore incondizionato, è il chakra del perdono, è il chakra della compassione. Il cuore è l'organo di percezione dell'anima. Le emozioni sono esperienze del nostro apparato psicofisico che vanno e vengono, lo dice la parola stessa, e fanno parte sempre della mente. Quindi quando diciamo dobbiamo seguire il cuore non vuol dire il seguire le emozioni. Ecco, lo specifico perché spesso c'è confusione sotto questo aspetto. Tutto ciò che è guidato dal cuore è oltre le emozioni. Il vero amore, la vera estasi, la vera libertà, sono qualità dell'anima che non sono emozioni. Le emozioni sono tutto ciò che oggi c'è e domani potrebbe non esserci e sono un'illusione esattamente come un'illusione nella nostra mente, quello che crede, quello che pensa. Ecco, nel momento in cui noi andiamo a svegliare appunto l'omino all'interno della carrozza, a quel punto parliamo con la nostra mente e attraverso la nostra mente, che è appunto il cocchiere, anche le emozioni di conseguenza saranno gestite e andranno esattamente dove la nostra parte più profonda vuole. Ma per fare questo dobbiamo essere svegli. Come essere svegli? Attraverso il ricordo di noi, attraverso lo stato di presenza, attraverso il ricordare di essere qui e ora. Se io adesso ti dico sei presente, presente, tu in questo momento senti che sei qui e ora. Ma se pensi a 10-15 minuti fa, molto probabilmente tu non avevi questa consapevolezza. Non eri presente, non c'eri, eri distratto fondamentalmente. E mentre sei distratto, il cocchiere va dove decide lui. Se tu sei presente, che non vuol dire avere il controllo a livello mentale, il controllo è un'ottava bassa della presenza. Quindi il controllo è sì, l'esserci, il non farsi scappare niente, il gestire le situazioni, nello stesso tempo non ti porta a quello stato di pace, di serenità interiore che invece ti porta alla presenza, che è un'ottava alta del controllo. Quindi nel momento in cui tu sei presente, allora a quel punto sia la tua mente sia le tue emozioni sono governate da te e vanno nella direzione in cui la tua parte più profonda desidera. Detto questo lasciami un like, se ti fa piacere condividi questo video, se non l'hai già fatto iscriviti al canale, ci vediamo al prossimo video Illumina il mondo. Ciao!